Grazie alle scuderie del Quirinale che mi hanno invitato, grazie dovrei dire soprattutto a coloro che avranno la pazienza di starmi a sentire sperando di non annoiarle troppo. Piero Boccardo prima mi ha bonariamente rimproverato perché ha visto che io ho una traccia scritta, mi ha detto ma come? Ti ho sempre visto parlare a braccio, dico sì ma ci sono due cose da tenere presenti, una è che mi hanno dato un tempo limitato e quindi è bene che io sappia più o meno che cosa devo dire e l'altra, meno divertente per me, è che gli anni si accumulano e allora a un certo punto uno corre il rischio di perdere il filo di quello che sta dicendo, se invece trovano la traccia scritta qui davanti ci sono almeno meno probabilità di perdere questo filo. E dunque il titolo è Genova una città diversa, quindi lo scopo di questa mia chiacchierata dovrebbe essere appunto quello di indicare alcuni aspetti, alcune caratteristiche che rendono Genova intendendo con questo nome la città, lo stato che da esse è retto e la sua classe dirigente, qualche cosa di singolare nel panorama di quella che noi chiamiamo età moderna. La diversità di Genova è qualcosa che noi possiamo, come dire, portare indietro nel tempo, perché i genovesi questo lo sanno tutti, c'è una famosa terzina dantesca che comincia proprio dicendo ai genovesi uomini diversi da ogni costume e poi dice alcune cose non proprio lusinghiere sui Genova, concludendo perché non siete voi del mondo spersi, perché non siete spazzati via dal mondo come vi meritereste? Quindi questa diversità, in questo caso una diversità indubbiamente nel male, non nel bene, è di vecchia data, ma qui io vorrei limitarmi a tempi più recenti, cioè cercare di vedere questi aspetti per quanto riguarda i secoli, diciamo grosso modo del 600 e del 700, cioè quei secoli che corrispondono cronologicamente ai quadri che voi potete vedere o che avete già visto esposti in questa bella mostra che io mi sono goduto oggi, anche perché mi ha accompagnato Piero Boccardo che quindi era un cicerone, anzi come l'ho chiamato prima il mio Virgilio, no? È stato un Virgilio eccezionale. Allora Genova, all'epoca di cui ci stiamo occupando, Genova è una città non piccola, ma a metà 600 pare che avesse quasi 100.000 abitanti, anche se poi naturalmente questi numeri vanno presi con le pinze. Certo però è lontana dalle dimensioni delle megalopoli di allora, Napoli, Parigi, Londra, è alla testa di uno Stato che anch'esso, potremmo dire abbastanza piccolo ma non troppo, corrisponde all'incirca a quella che è l'attuale Liguria. Piccolo direte? No. Se noi lo confrontiamo con gli standard europei di allora, con quello che c'era in Italia, con quello che c'era nell'area tedesca, per esempio, non è poi particolarmente piccolo. Questo Stato, come credo tutti sappiamo, era una Repubblica aristocratica. È una caratteristica che condivide con altri Stati. In Italia, Venezia, Lucca, se proprio vogliamo anche la piccola San Marino, che ce l'abbiamo ancora lì, e in qualche misura anche in Europa con Ragusa, Dubrovnik, e soprattutto con le Provincie Unite, quelle che noi chiamiamo Olanda. Ora, una Repubblica aristocratica, questo è il primo dato da segnalare, già di per sé rappresenta una anomalia in un'Europa continentale, diciamo in un'Europa in genere che è fatta di monarchie, e in particolare in un'Europa continentale che è fatta di monarchie assolute, ereditarie, con due eccezioni, la Polonia e un'altra che non ci viene mai in mente quando parliamo di monarchie ereditarie. Magari non ci viene in mente neanche se siamo a Roma, invece è ovvio che questa è il Papa. E poi monarchie di diritto divino. Quindi diciamo che le Repubbliche sono qualcosa che stanno in una dimensione opposta addirittura a quella che è la dimensione statuale prevalente in Europa. Questa già è un'anomalia da tenere presente. Una Repubblica, anche questo è piuttosto ovvio, non possiede né una corte né una reggia, il che è un elemento direi non trascurabile per quanto riguarda, per esempio, la produzione artistica, la committenza artistica, il collezionismo, il mercato dell'arte. Anche se questo, il fatto di non esserci una reggia e una corte, non impedisce che i ceti dirigenti della Repubblica di Genova siano in grado di costruirsi un grande patrimonio di palazzi e di ville. Ennio Poleggi, che è stato, credo, il migliore studioso della storia dell'architettura e dell'urbanistica di Genova, ha pubblicato un libro che si intitola proprio Genova una civiltà di palazzi. Chi ha visto la mostra ha visto anche la serie dei palazzi genovesi, che sono degni di, per citare un altro libro curato dallo stesso Poleggi, una reggia repubblicana. Sembra una contraddizione, ma chi è stato a Genova e anche soltanto ha visto quella che oggi si chiama Via Garibaldi, che un tempo si chiamava Strada Nuova, ha l'impressione davvero di trovarsi in una sorta di reggia repubblicana. Questa civiltà di palazzi ci interessa anche per ricordare quel particolare meccanismo che si chiama dei Rolli, Palazzi dei Rolli, chi è stato a Genova anche questa espressione la conosce già e magari ne ha visitato qualcuno. Che cosa vuol dire questo? Che si teneva un apposito registro di questi palazzi patrizi e sulla base di questo registro, di volta in volta, quando arrivava a Genova un dignitario, un principe, un sovrano in visita, lo si ospitava in uno di questi palazzi. E naturalmente questo, non è detto che i proprietari di questi palazzi fossero sempre contentissimi di dover fare questa ospitalità, ma quando il personaggio era di grande rilievo, tutto sommato ci tenevano, perché dava molto lustro alla famiglia e magari consentiva anche di fare qualche affare. E allora questo ovviamente era un incentivo, non solo per avere un palazzo, ma anche perché dentro a questo palazzo ci fosse qualche cosa di significativo. Grandi saloni di rappresentanza, grandi collezioni d'arte e così via. Una Repubblica aristocratica, dicevo, che cos'è in pratica una Repubblica aristocratica? è, ancora una volta, in opposizione a una monarchia, un regime collettivo. Si fonda sull'esistenza di un ceto di persone, un numero definito, grosso modo, di persone che sono le uniche che hanno diritto di accedere alle cariche politiche. Venezia è un caso analogo e nel caso di Venezia la definizione di questa classe politica circoscritta, ristretta, è piuttosto lontano nel tempo. Nel 1297 si compie quella che si chiama la serrata del maggior consiglio, cioè si dice più o meno, poi il discorso sarebbe un po' più complesso, ma diciamo che lo si può riassumere così. Tutti quelli che adesso siedono in maggior consiglio e i loro discendenti sono quelli che d'ora in poi avranno diritto a ricoprire le cariche. Genova ci ha messo molto di più per arrivare allo stesso risultato, cioè per definire questo ceto politico. Ci è arrivato soltanto con grande fatica nel Cinquecento, nel XVI secolo. Nel corso del Medioevo e fino all'inizio del Cinquecento Genova è stata una città in cui la conflittualità interna fra famiglie e fra fazioni è stata addirittura parossistica, con episodi che, se posso dire una cosa un po' dissacrante, a me fanno venire in mente certe faide fra le cosche mafiose o dell'andrangheta, perché il livello di violenza spesso era quello e i sistemi usati spesso erano quelli. Nel corso del Cinquecento faticosamente questa città riesce a pacificarsi, riesce a definire quello che si chiama un ordo unicus, un ordine unico, cioè appunto un gruppo di persone che compattamente hanno i pieni diritti politici, hanno la piena possibilità di accedere alle cariche e questo compattamento viene eseguito mettendo insieme sia le grandi famiglie di nobiltà feudale, i Grimaldi, gli Spino, l'Aidoria, i Pallavicino, o anche le famiglie di quelli che altrove si chiamano popolo grasso e che a Genova di solito si definiscono popolari, populares. quindi un compattamento tardivo di questa classe dirigente ma in compenso quando si arriva a definirlo questo ordine, questo ordo unicus, a definirlo definitivamente, scusate il bisticcio di parole, nel 1576 Genova compie un passo che la rende davvero molto speciale, molto particolare, cioè si dà con quelle che si chiamano le legge snove, le leggi nuove, si dà una vera e propria Costituzione. Una Costituzione che intendiamoci ricalca schemi che sono diversi da quelle delle Costituzioni a cui siamo abituati dall'Ottocento in poi ma che a tutti gli effetti è una Costituzione cioè fa sì che il gioco politico, le cariche politiche si svolga tutto all'interno di regole definite. Genova diventa, c'è una bella frase che è riportata nella mostra tra le tante belle frasi che voi leggete in alto dove si dice appunto che Genova è uno Stato di diritto. Una cosa che di nuovo è straordinariamente diversa da quello che succede nelle monarchie. Nelle monarchie intanto chi decide come sappiamo è uno solo e i suoi sottoposti e nelle monarchie come sanno bene i repubblicani e lo sanno i repubblicani genovesi è l'arbitrio del sovrano è la volontà assoluta del sovrano che decide le cose mentre a Genova tutto avviene sulla base di leggi di norme. Diciamo che questo distingue Genova anche da Venezia. Venezia sì è una repubblica che ha anche lei le sue norme ma queste norme è anche molto brava a violarle. Pensiamo a una magistratura di cui tutti abbiamo sentito parlare il Consiglio dei Dieci. Il Consiglio dei Dieci è come dire un'alta polizia politica e un KGB che quando c'è da eliminare qualcuno lo elimina sbrigativamente. A Genova molto tardivamente si arriva ad avere un'analoga polizia politica gli inquisitori di Stato nel 1628 ma anche questa polizia politica deve obbedire a delle norme deve obbedire a delle leggi non può fare tutto quello che vuole. A Genova quando ci sono delle controversie giudiziarie fra un nobile e un plebeo e un popolano queste controversie vengono normalmente risolte dalla legge. poi naturalmente ci sono le eccezioni come sempre ci sono ci sono anche nella nostra bella Italia repubblicana e costituzionale e legalitaria no però in linea di massima un nobile se viola la legge e se anche la viola a danno di un plebeo viene punito e a volte viene punito anche in maniera pesante per bene che gli vada con la relegazione in Corsica come un tempo si diceva ai funzionari pubblici ti sbatto in Sardegna no questa costituzione è destinata a reggere le sorti della Repubblica fino al 1797 anno in cui per mano di buona parte la Repubblica aristocratica cessa di esistere e verrà sostituita da una Repubblica alla francese come dire ecco questo di nuovo ripeto è un un aspetto molto particolare molto peculiare che va tenuto presente per capire la logica la logica di quegli uomini che hanno comperato quei quadri che noi vediamo in mostra oggi ritorniamo su il complesso di quelli che a Genova si chiamano cittadini di governo cioè quei patrizi che godono dei pieni diritti politici i numeri sono difficili da stabilire e soprattutto variano molto nel tempo ma potremmo prendere come cifre indicative un 2000 persone appartenenti a 300 famiglie in realtà ripeto sono numeri molto arbitrari questi che sto dando perché poi cambiano parecchio nel tempo dice sono pochi questi beh sono pochi ma se li confrontiamo con quei regimi in cui sono pochissimi ad avere i diritti politici sono in realtà tanti non solo possiamo fare un piccolo ragionamento quando arrivano nell'ottocento anche nel nostro paese le costituzioni cosiddette liberali quanti sono quelli che davvero partecipano cioè hanno diritto di elettorato attivo e passivo sono un numero che tutto sommato non è maggiore non è maggiore di questo semmai qui la vera differenza sta nel fatto che il ceto politico appartiene solo alla capitale tanto è vero che la Genova tanto è vero che la capitale non si chiama capitale si chiama dominante come d'altronde succede anche a Venezia altra repubblica cittadina non ci sono aventi diritto alle cariche di governo rappresentanti del resto dello Stato che non a caso si chiama il dominio in contraposizione con la dominante quindi il territorio il dominio non ha rappresentanza politica ma il ceto politico appartiene solo alla capitale questo ceto politico vi dicevo i numeri possono molto variare in effetti variano molto nel tempo perché perché ci sono le dinamiche demografiche innanzitutto ci sono periodi in cui i nobili figliano di più e altri in cui figliano di meno in cui muoiono di più o muoiono di meno ma anche perché le leggi del 1576 stabiliscono che ogni anno esiste la possibilità di ascrivere di iscrivere nel liber nobilitatis nel liber civilitatis nel libro d'oro cioè nel libro dove sono iscritti coloro che hanno i pieni diritti politici si può ogni anno iscrivere dieci nuove famiglie diciamo dieci nuovi personaggi che rappresentano a quel punto l'entrata di nuove famiglie sette della città e tre del dominio quindi attraverso questo meccanismo si allarga questa base di governo e si allarga in parte anche ai ai rappresentanti delle riviere come si dice a Genova cioè del territorio su questo aspetto però dirò poi qualcosa in seguito ho detto dunque che questi cittadini di governo sono tutti ascritti o iscritti in questo libro d'oro e da questo libro d'oro si traggono appunto coloro che vanno a ricoprire le varie cariche con un sistema misto e sempre terribilmente complicato di elezione e di sorteggio l'elezione del Doge è qualcosa di totalmente cervellottico tutte le volte che a me è capitato di dover spiegare le elezioni del Doge mi è toccato andarmela a ristudiare non ve la spiego perché non me la ricordo più è complicatissimo è tutto un sistema continuo di elezioni contro elezioni e sorteggi il fatto che si sorteggi naturalmente in queste repubbliche ha fatto venire in mente anche ai nostri giorni a qualcuno la bella idea di dire ma potremmo farlo anche noi oggi qualiquisticamente si potrebbe dire che vedendo certi parlamentari forse il sorteggio potrebbe anche dare risultati migliori ma qui lo dico e qui lo nego quello che voglio dire però è che qui siamo di fronte a due cose diverse qui si screma già un ceto di governo dove ahimè anche lì non mancavano gli imbecilli intendiamoci però una scrematura c'era stata prima se oggi noi il sorteggio lo pratichiamo su tutta la cittadinanza forse le cose sono un po' diverse forse sono un po' complicati tant'è vero che questa idea del sorteggio oggi ritorna semmai per magistrature come il CSM consiglio superiore della magistratura e allora lì il sorteggio non avviene fra tutti i cittadini fortunatamente quali sono queste cariche a cui hanno accesso questi cittadini di governo beh innanzitutto il doge formalmente il capo della Repubblica che però in realtà non è che conti molto l'unica cosa importante nell'essere doge è che poi si ottiene una carica a vita mentre tutte quella di procuratore perpetuo mentre tutte le cariche all'interno della Repubblica tutte dalla più alta alla più bassa sono cariche rotazione durano al massimo due anni come esattamente la carica del doge il doge veneziano è a vita se non gli succede qualche guaio prima il doge genovese e tutti gli altri capi politici diciamo così sono a rotazione perché? perché più ancora che a Venezia qui si ha il terrore che ci sia qualcuno o qualche famiglia che si impadronisca delle leve del potere a proprio beneficio e ne escluda gli altri quindi ci deve essere questo ricambio continuo questo vale per il doge quello vale per quelli che si chiamano a Genova i serenissimi collegi cioè il Senato e la Camera o i governatori e i procuratori e anzi visto che prima è stato evocato un mio libercolo sul gioco del lotto proprio dal sorteggio dei serenissimi collegi visto che due volte all'anno ci sono cinque tra governatori e procuratori che escono e che devono essere rimpiazzati per sorteggio beh diciamo che in tutte le città italiane nel Medioevo c'erano meccanismi di sorteggio e in tutte le città italiane si scommetteva così come a Roma si scommetteva credo che lo sappiate tutti sui conclavi sull'elezione del Papa tra le altre cose ma a Genova siccome i genovesi da questo punto di vista sono un po' più furbi potremmo dire lo hanno istituzionalizzato questa pratica della scommessa e hanno inventato il gioco del lotto e hanno inventato quel gioco appunto così utile ai pubblici introiti come recitano i documenti di allora tenendo presente che poi il lotto di Genova alle origini è molto diverso intanto si scommette sui nomi e non sui numeri poi i nomi potenzialmente non sono 90 ma sono 120 poi questi nomi variano di volta in volta perché non sono sempre gli stessi quelli che sono sorteggiati ma qui apriremo un altro discorso che non voglio proseguire dunque cariche biennali dicevo rotazione continua per impedire qualsiasi diciamo che in tutta la storia della Genova moderna l'unica persona che in qualche modo ha ricoperto una carica perpetua davvero è stato Andrea Doria padre della patria quello che ha fatto la prima riforma costituzionale cioè non l'ha fatta lui ma va sotto il suo nome e sotto il suo patrocinio nel 1528 ho detto prima creazione di un ordo unicus ho usato la parola compattazione però questo ordo unicus in realtà lo dicevo prima ha una duplice origine le grandi famiglie aristocratiche le grandi famiglie feudali i populares il popolo grasso e allora per tutta per tutto il tardo 500 il 600 il 700 all'interno del ceto di governo continuerà a esistere una separazione ufficiosa una separazione sotterranea che non deve mai essere esplicitata che non deve mai essere pronunciata ufficialmente tra nobili vecchi quelli delle grandi famiglie e nobili nuovi naturalmente oltre a questa differenza questa partizione diciamo esisteranno anche le differenze di carattere economico famiglie ricche famiglie meno ricche addirittura famiglie povere ma questa differenza economica è trasversale fra le due nobiltà nel senso che sì spesso i nobili vecchi sono anche i nobili di grande ricchezza ma non sempre la famiglia della nobiltà vecchia più numerosa che è quella degli spinola proprio perché è più numerosa hanno un sacco di membri che invece hanno come qualcuno dice esplicitamente le pezze al sedere qualcuno è costretto a coltivare la terra con l'aratro si dice degli spinoli e viceversa ci sono famiglie di nobiltà nuova che si arricchiscono e diventano e diventano ricchissime i Durazzo forse i più ricchi di tutti tra il Settecento quello che a Genova ancora oggi si chiama Palazzo Reale e si chiama così perché ne hanno fatto un Palazzo Reale in Savoia era un Palazzo Durazzo ed è chi l'ha visto in via Balbi è un palazzo gigantesco i Brignole i Balbi che sono quelli che hanno realizzato la strada Balbi e i Palazzi Balbi anche se poi i Durazzo gliene hanno mangiato una buona parte quindi anche tra i nuovi ci sono possibilità di accumulare delle grandi ricchezze se noi andiamo a vedere chi sono gli acquirenti delle opere troviamo certamente molti personaggi delle famiglie vecchie ma ne troviamo anche di famiglie nuove e quindi anche da questo punto di vista diciamo che il miscuglio il compattamento in qualche modo è realizzato a parte questa sotterranea divisione fra nobili vecchi e nuovi però bisogna dire che formalmente e giuridicamente tutti i membri dell'aristocrazia genovese hanno pari diritti dal punto di vista politico non esiste nessuna distinzione come non esiste nessuna distinzione tra primogeniti e cadetti esisterà dal punto di vista dei patrimoni familiari ma non esiste dal punto di vista dei diritti politici anche l'ultimo dei figli maschio naturalmente e mi scuso con le signore ma comprenderete che non è colpa mia questa discriminazione l'ultimo dei maschi ha i suoi pieni diritti politici e viene scritto nel nel libro d'oro siccome non ci deve essere nessuna distinzione non devono freggiarsi nessun titolo nobiliare molti nobili genovesi come si sa bene si acquistano dei feudi in giro per l'Italia e quindi acquisiscono dei titoli nobiliari diventano barone diventano principe diventano marchese diventano conte ma questi titoli non possono assolutamente essere esibiti in patria in patria hanno solo diritto come vi ricorda anche una voce di questo libricino al titolo di magnifici magnifico è l'aggettivo che qualifica gli appartenenti al ceto di governo i cittadini di governo in linea di massima specie si ricoprono delle cariche ebbene anche che vadano vestiti tutti allo stesso modo con il robone nero che sembra una cosa un po' funeralizia che li fa somigliare a dei corvacci ma tanto è Venezia da questo punto di vista ci ha lasciato molte immagini analoghe naturalmente questa uniformità poi quando si esce dalle mura cittadine valga il quadro di Magnasco qui esposto del trattenimento nel giardino di Albaro nelle loro bellissime ville allora i patrizi possono sfuggiare gli abiti sgargianti che più gli piacciono ecco qui vi ho dato così molto in pillole spero però in maniera abbastanza comprensibile un'idea di come funziona il governo la politica di questa città e spero di avere già indicato alcuni elementi di peculiarità però se vogliamo cercare di capire un po' meglio la diversità genovese bisogna guardare anche da qualche altra parte bisogna guardare soprattutto il piano dell'economia da questo punto di vista io dirò cose abbastanza superficiali anche perché so che è prevista nell'ambito di questa di questa serie di conferenze una conferenza del professor Zannini che io sponsorizzo assolutamente perché è bravissimo che sarà dedicata proprio agli aspetti economici però qualche cosa inevitabilmente devo dire anch'io se devo partire dal dato più evidente che tutti gli storici genovesi conoscono bene il carattere più evidente del patriziato genovese direi che è il suo aspetto straordinariamente cosmopolita l'Italia le città italiane soprattutto centro-settentrionali nel basso medioevo e nel rinascimento hanno avuto ceti dirigenti che erano abbastanza tutti quanti internazionali giravano abbastanza per l'Europa e avevano affari in giro per l'Europa ma nessuna nessuna popolazione a cominciare dai patrizi ma potremmo dire anche il resto della popolazione genovese è riuscita a sciamare in giro per l'Europa in giro per il mondo come come i genovesi quindi certo Firenze Siena Venezia Lucca Cremona ma Genova è un aspetto particolare nel senso che la cosa è stata davvero macroscopica e come cercherò di dire in seguito è stata particolarmente duratura questa dimensione internazionale così pronunciata ha avuto naturalmente delle conseguenze di grande importanza delle ricadute di grande importanza sul piano anche delle dinamiche sociali e direi anche delle dinamiche culturali un'apertura verso il mondo anche qui la mostra ci può soccorrere molte delle delle strade che hanno percorso i pittori in mostra o i loro quadri sono percorsi che riguardano città lontane da Genova personaggi che possono essere lontani da Genova questa diaspora genovese li ha naturalmente favoriti questi passaggi la storia della diaspora genovese anche qui è una storia che comincia molto da lontano comincia nei secoli del medioevo quando Genova si afferma come una grande potenza marittima marinara e si afferma anche come una grande potenza coloniale con le sue colonie del Levante nel Mar Nero nel Mar Dazov i suoi abitanti si spingono oltre che nel Levante in altre zone soprattutto già nel medioevo in vari paesi del Mediterraneo soprattutto il Regno di Sicilia e il Regno di Napoli ma è soprattutto in età moderna ed è soprattutto fra 5 e 600 quando peraltro la prima versione della diaspora genovese quella verso il Levante è venuta meno perché i turchi hanno via via conquistato le colonie genovesi è fra 5 e 600 che si evidenzia in pieno questa straordinarietà questa straordinaria estensione della diaspora genovese e in particolare dei suoi membri dei membri del suo centro dirigente questo centro dirigente fra inizio 500 e metà del 600 partecipa in misura rilevantissima in posizioni sempre forti e spesso in posizioni di addirittura di monopolio a quelli che sono i più grossi affari dell'epoca ma di gran lunga i più grossi affari dell'epoca prestiti internazionali traffico del metallo prezioso americano argento soprattutto qui abbiamo alcuni argenti in mostra che come dire anche nel loro peso oltre che nella loro bellezza di confezione ci dimostrano questa questa dimestichezza dei genovesi con l'argento l'assiento cioè il noleggio delle galerie da guerra fatte alle grandi potenze fatte alla Spagna innanzitutto il commercio coloniale le manifatture di lusso la seta innanzitutto le imprese zuccheriere lo zucchero per molto tempo ancora è una merce di lusso diventerà una merce diffusa e a buon mercato soltanto quando lo zucchero americano comincerà a invadere i mercati europei oggi è diventata una merce che addirittura i supermercati quasi non vorrebbero nemmeno ottenere la usano soltanto come merce lo sapete no? la nascondono più che possono perché così quando uno lo zucchero e il sale sono le due merci che vengono nascoste così uno le cerca e deve percorrere tutti gli scaffali e finisce naturalmente per comprare un sacco di cose di cui non aveva nessun bisogno questo è il trucco dei supermercati all'epoca però lo zucchero costava caro era considerato una prelibatezza o addirittura una medicina trasporti del grano sul vasta scala perché dominano i granai della Sicilia trasporti e traffico dell'allume l'allume è una merce che oggi non ci dice più niente qualcuno quando si fa la barba e si taglia fa così e cauterizza ma allora era una merce strategica perché serviva le manifatture tessili le manifatture conciarie eccetera eccetera quindi l'allume era una merce di cui i genovesi avevano praticamente il monopolio nelle allumiere di Focea in Asia Minore poi a un certo punto quando vengono fatti sloggiare di là c'è il grande miracolo i papi lo presentano come tale si trova si scoprono le allumiere di Tolfa qui vicino e quindi perché la scoperta di queste allumiere evidentemente vanno stavo per dire una parolaccia al turco vanno ad anno del turco ho detto ad anno quindi me la sono cavata che non può più smerciare il suo allume ma c'è l'allume del pap la lune de Rome come recita il titolo di un libro molto famoso di Delumont ebbene questo allume di Roma ce l'hanno spesso in mano i genovesi gli appalti fiscali gli stati spesso non sono capaci a riscuotere le imposte hanno bisogno di appaltatori è una storia che arriva fino ai nostri giorni la Sicilia l'ha conosciuti gli appaltatori fiscali fino a anni recentissimi se non sbaglio forse qualcuno c'è ancora non lo so mi manca questi hanno gli appalti fiscali nei vari stati italiani ed europei tra questi affari che sono tutti i affari redditizi ce n'è uno in particolare ed è abbastanza noto che è il più redditizio di tutti ed è il servizio di prestito alla corona spagnola alla corona spagnola che all'epoca è la superpotenza per antonomasia allora sarebbe come oggi pensare a un piccolo Stato a un piccolo gruppo di personaggi che sostiene la finanza pubblica e in particolare le spese militari negli Stati Uniti d'America più o meno il raffronto è questo è quello che fanno i genovesi all'epoca sostengono la spesa pubblica e gli sforzi militari della superpotenza spagnola e naturalmente non lo fanno per bontà lo fanno perché lucrano degli interessi enormi su questi prestiti sono così enormi che anche quando i re di Spagna fanno bancarotta o dicono o minacciano di fare bancarotta ci si aggiusta ci si mette d'accordo lo stesso si fa una composizione come dire tanto la storia è vecchia tanto c'è sempre un parco buoi che ci rimette perché questi grandi prestatori poi gli eventuali scapiti riescono a pioggia a fargli andare su coloro da cui avevano rastrellato il denaro il parco buoi ripeto è un'invenzione piuttosto vecchia quindi prestiti alla Spagna questo è quello da tenere presente lucrano grandi interessi lucrano grandi introiti ma non è solo questo con i prestiti alla Spagna si ottengono anche altre cose cioè ci si impadronisce in larga misura non solo della finanza statale spagnola ma dell'economia spagnola dei commerci spagnoli e la Spagna a quest'epoca lo sappiamo tutti è padrona della maggior parte delle colonie del nuovo mondo quindi le merci che arrivano dal nuovo mondo in un certo senso vengono intercettate dai mercanti e dai finanzieri e dai finanzieri genovesi avere le mani sull'economia spagnola significa avere le mani sull'economia spagnola ma anche su quelli che sono i possedimenti della Spagna quindi ho accennato al nuovo mondo ma naturalmente ci sono il Ducato di Milano il Regno di Napoli il Regno di Sicilia il Regno di Sardegna i Paesi Bassi Spagnoli tutti tutti i luoghi che hanno a parte la Sardegna che è un caso particolare che hanno interessi economici piuttosto forti e piuttosto evidenti o per le loro manifatture o per le loro materie prima in cambio dei loro servizi altra cosa che si lucra si possono ottenere dei feudi se voi andate a vedere quanti cognomi genovesi ci sono nei feudi del Regno di Napoli quanti Doria quanti De Mari quanti Grimaldi quanti Serra e si potrebbe continuare ci sono lì e beh chi sono questi signori sono dei signori che in cambio dei denari che hanno allargito la Spagna sono riusciti ad appropriare perché la Spagna quando non ha da restituire i soldi paga come dire in natura o paga sulla pelle dei suoi sudditi in feuda delle terre e delle intere comunità a chi gli ha prestato i soldi e così questi possono anche diventare come dire nobili 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 veri non solo nobili di Genova ma nobili che possono presentarsi come tali al cospetto della nobiltà europea cosa da non trascurare possono ottenere delle cariche prestigiose all'interno del Regno di Napoli del Regno di Sicilia della Spagna stessa prendiamo un caso particolarmente spero di non dilungarmi troppo semmai a un certo punto fatemi dei gestaci così mi fate stare zitto prendiamo un caso emblematico di un signore che si chiama Ambrogio Spinola l'espugnatore delle piazze lo definisce un suo biografo seicentesco cioè colui che espugna le piazze forti le città nobili Ambrogio Spinola vive fra il 1662 scusate lasciamo perdere questa data che stavo dicendo una stupidaggia in particolare Spinola questo è difficile non ricordarselo è il conquistatore della città di Breda perché c'è un signore che si chiama Velázquez che ha fatto quel bellissimo quadro Le lance che è proprio la resa di Breda no? Bene Spinola diventa comandante in capo delle truppe spagnole nei Paesi Bassi cioè nel teatro di guerra principale della superpotenza spagnola e perché diventa comandante in capo per i suoi meriti militari sì può darsi aveva anche un fratello bravino anche lui nelle cose militari ma non è questa la ragione principale lo diventa perché la sua famiglia è in grado di prestare un sacco di soldi alla Spagna e di reclutare un sacco di soldati da mettere al servizio della Spagna quindi è questo suo duplice ruolo militare e finanziario che lo fa salire così tanto e guarda caso questa sua ascesa gli permette anche di diventare un nobile spagnolo il Marchese de los Valvases titolo nobiliare che poi passa ai suoi discendenti via via bene possiamo dire riassumendo che le famiglie patrizie di Genova diventano un formidabile gruppo di potere all'interno di quella che fino alla metà del Seicento è stata la superpotenza d'Europa e per molti aspetti del mondo intero ma la presenza spagnola non si limita la presenza genovese non si limita certo ai territori spagnoli e alle sue dipendenze li troviamo li troviamo in Francia e guarda caso scelgono non Parigi scelgono Lione perché Lione è la capitale della banca ed è la capitale dell'industria serica francese li troviamo in Inghilterra Inghilterra è un posto difficile perché lì sono anche erettici accidenti però c'è un signore che si chiama Orazio Palavicino che nella seconda metà del Cinquecento con scarsi scrupoli religiosi si fa anglicano diventa Sir Horatio Palavicino e diventa un grande diplomatico della regina Elisabetta I ma non cessa di essere un nobile genovese e fa anche alcuni buoni affari per conto della famiglia e rende anche alcuni servigi alla sua patria di origine quindi Francia Inghilterra ma poi c'è un altro luogo dove la presenza genovese è veramente massiccia c'è qualcosa al microfono? no? sentite tutto? ok c'è un altro luogo siamo qui è Roma Roma si sa è la città che da sempre o meglio da quando esiste la chiesa cattolica dominante è stato un formidabile terminale di denaro che arriva prima da tutta la cristianità occidentale poi quantomeno da tutta la cattolicità e essendo un terminale di grandi flussi di denaro ha interessato come è ovvio tutti i grandi banchieri i grandi finanzieri qui i genovesi hanno avuto delle belle concorrenze nel senso che soprattutto i toscani fiorentini senesi non è un caso se un palazzo che viene spesso nominato si chiama chigi che sono una famiglia senese lucchesi e così via però nonostante questa agguerrita concorrenza sono riusciti anche qui a mettere le mani su grandi affari prestiti prestiti alla curia pontificia prestiti allo stato pontificio i cosiddetti monti cioè i prestiti pubblici che si lanciavano qui a Genova e poi anche qui capacità di dominare l'economia approvvigionamento della capitale grano dell'allume ho già detto e non sto a ripetermi anche qui hanno ottenuto terreni feudi anche qui hanno avuto posti di prestigio nell'amministrazione pubblica nell'amministrazione dello stato pontificio soprattutto cariche di natura finanziaria hanno assunto l'appalto della discussione delle imposte naturalmente la presenza romana non c'è bisogno di dirlo ha un rilievo molto particolare quando parliamo di mercato dell'arte di produzione artistica di committenza artistica e così via anche qui brevemente vorrei fare riferimento a una figura emblematica che certo Piero Boccardo conosce bene e che si chiama Vincenzo Giustiniani Vincenzo Giustiniani che tra l'altro è un genovese della diaspora un genovese di Chio qui abbiamo anche il massacro dei giustiniani di Chio in mostra suo padre Giuseppe arriva a Roma da Chio teniamo presente che questi genovesi per quanto siano montani sono sempre cittadini di Genova hanno sempre tutti i loro rapporti con i genovesi in patria non cessano di essere tali arriva suo padre Giuseppe a Roma e diventa uno dei principali finanziatori siccome si porta dietro un po' di gruzzolo da Chio un gruzzolo che doveva essere piuttosto consistente perché diventa uno dei principali finanziatori di due papi Sisto V e Clemente VIII tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento che sono i due papi che hanno riempito Roma di edifici e di bellezze artistiche no? Sisto V e il Papa Tosto come lo chiamano credo che si chiami ancora così a Roma no? e quindi questi hanno finanziato praticamente lo sviluppo urbanistico questo ha finanziato lo sviluppo urbanistico di Roma e nel farciò ha acquistato tutta una serie di importanti cariche finanziarie come la depositeria della carica apostolica depositeria della carica apostolica è praticamente colui che maneggia i denari dello Stato Pontificio volendola dire in parole povere questa carica viene ereditata assieme al patrimonio da suo figlio Vincenzo che infatti alla sua morte nel 1637 risulterà essere l'uomo più ricco sia di Roma o uno dei più ricchi certamente sia di Roma sia di Genova Vincenzo però cosa ha fatto? a un certo punto ha fatto un salto ha deciso che gli affari poteva delegarli lui ha cominciato a fare un viaggio di istruzione attraverso l'Europa e si è trasformato via via in un grande mecenate e in un grande collezionista di opere d'arte e di antiquaria la sua collezione è una collezione strepitosa ho ancora un po' di tempo forse vediamo se ce la faccio ho piacere di leggere un breve passo di Giorgio Doria che è stato uno dei migliori studiosi della storia economica genovese e lui dice cito le sue parole tra 5 e 600 non c'era quasi membro dell'oligarchia di Genova che non avesse avuto come palestre la borsa di Anversa la casa di contrattazione di Siviglia la curia di Roma la corte di Madrid i feudi del mezzogiorno le fiere e le fiere dei cambi di Medina del Campo Spagna Besançon Franca Contea o di Piacenza i mercati di Lione e di Milano i porti del Mediterraneo e dell'Atlantico le anticamere dei vicerei spagnoli le tende dei comandanti militari delle Fiandre gli ingenios di Asucar cioè gli zuccherifici i magazzini delle lane di Cuenca in Spagna o delle sete di Granada i depositi granari delle Puglie e della Sicilia le miniere di Almaden miniere di Mercurio in Spagna Mercurio sappiamo che era così importante per l'estrazione dell'argento di Masaron di Allume in Spagna o di Tolfa che ho già nominato bene un aspetto da tenere particolarmente presente a mio avviso e che tutto questo che ho cercato di riassurire questa breve storia economica del patriziato genovese si svolge nell'arco di tempo in cui per il resto d'Italia avviene qualche cosa di molto diverso avviene quella che è stata chiamata aristocratizzazione conversione alla rendita rifeudalizzazione cioè gli ex mercanti gli ex protagonisti della mercatura di Firenze o di Siena o di Lucca o di Milano e così via hanno investito nell'acquisto di terre e si sono trasformati in proprietari terrieri e in gente che vive di rendita e si sono messi anche a costruirsi un'ideologia aristocratica che era quella delle vecchie nobiltà si sono assimilati alle vecchie nobiltà europee che erano giusto appunto delle nobiltà terriere Genova rappresenta da questo punto di vista una eccezione totale è il caso lampante di una città e di un centro dirigente le cui fortune non hanno mai smesso di basarsi sul capitale di rischio non sulla rendita fondiaria su un terziario avanzato diremmo noi oggi fatto di commercio internazionale fatto di finanza internazionale fatto tutt'al più di manifattura di alto livello naturalmente questo diverso destino economico conferisce al patriziato genovese delle caratteristiche ancora una volta diverse peculiari che continuano anche quando quella grande bonanza come qualcuno l'ha chiamato dei prestiti alla Spagna quello che è stato chiamato il siglo de los genoveses quando questa grande stagione finisce ma anche quando questa grande stagione finisce questi genovesi continuano a non diventare a non ripiegarsi sulla rendita è vero che da un certo momento in poi dopo le ultime bancarotte spagnole cercano di deviare verso soluzioni meno avventurose è vero anche che per un certo momento patiscono una crisi economica che tra l'altro viene a coincidere con un episodio drammatico la peste del 1656 57 che si porta via si dice addirittura circa metà della popolazione di Genova gli investimenti si orientano magari preferibilmente verso soluzioni un po' più di riposo come si dice comperano botte cct in poche parole quelli che allora si chiamavano luoghi di monte sia in stati italiani sia in stati europei ma nella seconda metà del 600 e nel 700 nasce anche una nuova stagione di affari una nuova stagione di affari che vede per esempio i grandi capitali genovesi che sono rimasti lì sono rimasti intatti non si sono dilapidati nonostante le bancarotte spagnole e questi capitali vengono utilizzati per fare quelli che si chiameranno i prestiti all'uso di Genova che cosa sono sono prestiti con ottime garanzie che vengono fatte a sovrani Asburgo sovrani di Danimarca di Svezia vescovi conti sovrani francesi città grandi nobili e così via quindi è pur sempre un capitale di rischio anche se un capitale di rischio molto molto calcolato molto oculato si riprenderà con forza anche quello che è il commercio internazionale che nella seconda metà del Settecento conoscerà anche dei livelli particolarmente elevati e particolarmente redditizi ma anche appunto questo relativo ripiegamento di cui vi stavo dicendo non trasformerà mai i genovesi in una aristocrazia di quelle che invece ormai si vedono nel resto d'Italia che sono sempre più simili alla vecchia aristocrazia napoletana o siciliana chi ha letto un po' di romanzi siciliani a cominciare da De Robert sa che cosa vuol dire da questo punto di vista o alle aristocrazie del sangue o della spada francesi e spagnole germaniche e così via non si trasformeranno mai in aristocrazie di questo tipo nel patrimonio delle grandi famiglie genovesi la terra in qualche misura ci sarà continuerà ad avere una funzione ma sarà sempre una funzione minoritaria e comunque sarà una terra che per ovvie ragioni orografiche direi non è la terra della Liguria i patrimoni terrieri genovesi sono nel sud Italia sono in Monferrato sono in Piemonte sono nel Milanese e così via ancora alcune conseguenze che vengono da tutto questo vi prometto che in 5-10 minuti finisco ce la fate? resistete? sì? va bene allora taglio qualche cosa così così facciamo un pochino prima ecco potremmo ricordare un altro aspetto di peculiarità genovese che però secondo me invece va contestato voi troverete spesso nel passato ma qualche volta ancora nel presente l'idea di Genova città incolta genuensi sergo mercator sono dei mercanti è il disprezzo verso le repubbliche mercantili dei grandi nobili dei grandi aristocratici e così quindi Genova è una città di ignoranti chi afferma nella maniera più lampante questa cosa è un signore che si chiama Montesquieu che viene a Genova negli anni 20 del Settecento e dice delle cose terribili sui genovesi anche perché l'ha presa dall'ambasciatore genovese che odia moltissimo Genova Montesquieu dice che questo ambasciatore è un imbecille ma ciò nonostante prende per l'arocolato quello che lui gli dice e dice delle cose terribili sui genovesi ma tra le tante cose terribili che dice dei genovesi dice anche questa i genovesi sono i soli italiani i soli italiani che non hanno mai avuto alcun gusto per le arti né per le cose belle cosa che francamente è un po' difficile vedendo vedendo certe cose che ancora a Genova sia pure violentate dall'urbanistica selvaggia si possono vedere è un po' difficile Genova certo non ha non ha grandi letterati Genova non ha un'università per esempio non ha Bologna Padova Pisa poi anche Pavia e così via ha un meschino collegio gesuitico di poca fortuna però tutto sommato i suoi rampolli prima di andare a fare esperienze in quei posti dove dicevo prima vanno spesso e vengono mandati a studiare in quelli che si chiamano i seminari a nobilium cioè quei collegi per aristocratici quello di Parma è uno dei più famosi quelli dove si insegna sì la retorica la dialettica il latino il greco e così via ma si insegna anche la danza a tirare di scherma a cavalcare le buone maniere di un gentiluomo per intenderci quindi direi che tutto sommato questa idea di una Genova incolta è da prendere con le molle nel Settecento per esempio la cultura dei lumi vi è conosciutissima a Genova circolano i libri degli illuministi le rappresentazioni teatrali non sono delle peggiori e così via possiamo anche dire che il patriziato genovese ha anche esportato alcune personalità di buon livello culturale ne cito almeno una se ne potrebbero citare tante ma almeno una che è Giacomo Durazzo non so se il nome vi dice qualche cosa Giacomo Durazzo è diventato a Vienna il direttore generale dei teatri viennesi eh General Spectatel Director e come tale era colui che comandava la vita teatrale viennese al tempo di Maria Teresa perché ma perché aveva il pallino di queste cose ma perché la sua famiglia aveva degli interessi economici colossali in Austria e nei territori asburgici Giacomo Durazzo a me fa piacere ricordarlo anche per un altro motivo Giacomo Durazzo è colui che compara non si sa bene esattamente come quanti sono 27 mi parlo 27 volumi di spartiti di un signore che si chiamava Antonio Vivaldi Vivaldi sappiamo tutti che poco tempo dopo la sua morte non se lo filava più nessuno no era passato di moda non si sapeva quasi neanche più che esistesse questi 27 volumi di spartiti poi hanno un destino delle traversie molto complicate qualche anno fa è stato scritto un bel romanzo in proposito pubblicato da Sellerio non mi chiedete il titolo perché non me lo ricordo insomma questi spartiti questi volumi di spartiti vengono poi ritrovati avventurosamente fra il 1926 e il 1933 pensate in parte in un collegio di Salesiani nel Monferrato insomma ritornano alla luce e Vivaldi viene riscoperto e se oggi noi ci godiamo i suoi concerti e io sono fra coloro che si li gode abbastanza spesso dobbiamo dire grazie a Giacomo Durazzo anche queste esportazioni di cervelli come dire si iscrivono nella diaspora nell'internazionalità del patriziato genovese vi dicevo non essendo mai diventati dei rantier non sono mai diventati titolari di una ideologia nobiliare ricida non si sono mai creduti di sangue blu fino in fondo questi patrizi genovesi sapevano di essere soprattutto una aristocrazia del denaro poi si facevano ritrare con le armature con i bei costumi e così via in pose che non non potevano sfigurare per dei regnanti ma sapevano benissimo di essere anzitutto un'aristocrazia del denaro la limpiezza del sangue in testa non ce l'hanno mai avuta anche perché lo dicevo prima e ci ritorno avevano messo in piedi un meccanismo per cui ogni anno si potevano far entrare nel patriziato delle nuove famiglie le quali nuove famiglie naturalmente dovevano obbedire a certi requisiti o dovevano essere state utili in qualche modo al governo e questi requisiti dovevano essere omogenei a quelli dell'aristocrazia già presente ma valeva in un certo senso anche il contrario allora l'aristocrazia genovese è una voi sapete che in tutta Europa un aristocratico non poteva esercitare arti meccaniche ma la la gamma delle attività che erano vietate a un nobile in certi paesi era una gamma molto vasta viceversa a Genova questa gamma è più ristretta ci sono attività il notaio il medico non parliamo del commerciante all'ingrosso e cose simili che non sono affatto deroganti cioè non fanno affatto decadere dalla nobiltà e in questo senso quei borghesi che entrano del patriziato e quei patrizi che li accolgono sono abbastanza abbastanza omogenei abbastanza simili no? scusate mezzo bicchiere d'acqua e poi concludo ecco l'ultimo dato siccome come ho cercato di spiegarvi la ricchezza di questi signori deriva dai loro affari internazionali dalle loro speculazioni internazionali questi pesano poco sul loro paese importano grandi quantità oggi diremmo di valuta pregiata non ne esportano ne importano quindi creano ricchezza in qualche misura per il paese creano posti di lavoro diremmo oggi con il nostro linguaggio un po' terra terra tutti gli osservatori stranieri hanno sempre detto la cosa incredibile e addirittura vergognosa di Genova è che i nobili sono ricchissimi e che lo Stato è povero questa è un'indecenza no questa non è un'indecenza questa è un instrumentum regni se ci pensate questo Stato povero è uno Stato che pesa poco sul paese ha poca fiscalità non ha una vera burocrazia ha un piccolissimo esercito eccetera 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 che significa che il popolo i sudditi non ne sono particolarmente oppressi la ricchezza dei nobili è anche una ricchezza che alimenta una grande beneficenza pubblica una grande carità pubblica in questo libriccino si menziona giustamente l'albergo dei poveri di Genova che è un'impresa colossale nata a partire dalla metà del Seicento no ed è un'impresa privata è la famiglia Brignole che la avvia nobiltà nuova tanto per dire che i nuovi potevano avere i quattrini tanto quanto i vecchi quindi pesando poco sul paese ottiene anche consenso la plebe di Genova sarà una plebe sempre molto fedele al suo governo lo vediamo bene in un caso famoso che è stato anche evocato prima quello della rivolta di Balilla quando è il popolo genovese che prende le armi contro gli austriaci che hanno occupato la città e lo fa gridando viva Maria la Madonna che tra parentesi era stata proclamata regina di Genova e viva il nostro principe dove per il nostro principe si intende il nostro governo lo rifaranno i popolani di Genova nel 1797 quando c'è un moto diciamo così giacobino che vorrebbe essere eversivo ma loro si mobilitano a difesa del loro governo e dei loro aristocratici quindi uno stato che pesa poco e tutto questo anche adesso ho finito per davvero delle conseguenze evidenti su ciò che si chiama patrimonio artistico collezionismo produzione artistica e così via allora noi andiamo a guardare le meraviglie architettoniche delle monarchie assolute Versailles Schoenbrun Sanssouci restiamo all'Italia le residenze reali dei Savoia le residenze reali dei Barbone di Napoli chi le ha pagate queste residenze meravigliose i contribuenti che badate bene in Ancien Regime voi direte anche oggi ma no lasciamo perdere in Ancien Regime non erano certo i più ricchi i contribuenti ma erano i più poveri c'era una fiscalità che non era progressiva era regressiva come si dice bene andiamo a vedere le belle residenze delle nobiltà fondiarie i castelli le ville e così via chi le ha pagate il sudore dei loro contadini evidentemente i palazzi di Genova le ville di Genova sono stati costruiti senza che i loro proprietari mettessero le tasche nelle mani dei loro sudditi anche se è vero che le hanno messe qualche volta nelle mani dei sudditi altrui vi ringrazio grazie grazie grazie